Ah, a votare! Ma succede qualcosa se non ci vado? Mi fai un'altra domanda? È che non ho le idee chiare. Sì, insomma, non abbiamo le idee chiare. Però mi piacerebbe averle. Cioè, capire. Voto. Ma se non ci vado proprio a votare? Tanto. No? Non votare. Cioè, non lo so, poi... Vota. Ma che ce vai a fare? Per una volta non sarebbe bello decidere insieme? Una volta, ma non è che tutti i mesi, eh. Volete dirmi che un voto non conta? Allora, signori, io voto! Vai a votare.